Mariori inizia la carriera attingendo alle proprie radici culturali e alla propria passione per la musica celtica. A 14 anni comincia a suonare la chitarra e con un'amica si cimenta in brani della tradizione irlandese, così come con il rock contemporaneo di gruppi del calibro di U2 e cure. I primi consensi arrivano prestissimo. Dal pubblico dei concerti organizzati dalla scuola, a 20 anni affronta un'origine alle collaborazione con il compositore Raffaele Clemente. Utilizzando un accordatore elettronico modula la propria voce simulando il suono di un flauto. L'insolita sperimentazione le fa acquisire versatilità, potenziando il suo registro vocale. Negli ultimi tempi si è dedicata alla composizione, facendo convergere le proprie esperienze e le proprie aspirazioni in una serie di brani di grande, fascino e di forte impatto emotivo. Il suo primo singolo, Quello che tu hai, è stato pubblicato nel novembre 1999 e contiene tutti i riferimenti musicali della giovani musicali della giovane artista. Partecipa al Festival di Sanremo 2000 nella sezione, Giovani. Classificandosi nona, e subito dopo esce il suo album di esordio umonimo. Il primo singolo, Quello che tu hai, pubblicato nel novembre del 1999 passa piuttosto inosservato. Ma la cantante si rifà grazie alle margherite che strega un gran numero di persone. L'album, un mix di rock dalle sfumature forti irlandesi e ballate romantiche raccoglie grandi consensi ma è destinato a rimanere l'unico dell'artista. Fino al 2005, nonostante la collaborazione con l'amico Max Gazzè. Dopo questa parentesi da solista, Mariori e Biondo prosegue la sua carriera artistica coi doppiaggi delle colonne sonore di certi cartoni animati. Ad esempio è stata la voce cantante di Sally in Nightmare Befor e Christmas, di Belle in La Bella e la Bestia, di Odette in L'incantesimo del Lago e di Pollicina. Tra il 2007 e il 2008 ha prodotto il suo album Boandless Ocean, assumendo il nuovo nome Dimetri. È sorella di Susanna Biondo, moglie di Rosario Fiorello. Mariori è quindi cognata dello Showman. Attualmente sta collaborando con il gruppo Bola di S. Caffè al fianco di Francesco Di Bella, ex 24 Grana, di cui, nel novembre 2013, è uscito il primo disco solista. Francesco Di Bella Handball ADS Caffè. L'album è stato prodotto da Daniele Sinigallia che è anche compagno di vita di Mariori e dal 2011.